L'approvata esperienza e l'indiscusso acume investigativo degli uomini della sezione antidroga della squadra mobile di Terni hanno permesso di scoprire un'organizzata banda di insospettabili incensurati, soggetti completamente avulsi dal contesto criminale che spacciavano soprattutto nei luoghi della movida ternana. L'attività investigativa, coordinata dagli ispettori Ruggero Isernia e Piero Lupi, è iniziata alcuni mesi fa, quando gli inquirenti hanno notato uno strano movimento di giovani davanti alla stazione ferroviaria. In particolare c'era un ragazzo che si spostava continuamente tra la stazione, la sua abitazione, la cantina ed un pub, il tutto nel giro di poche centinaia di metri. Il suo atteggiamento era quello tipico dello spacciatore, rapidi contatti con giovani, spostamenti veloci, quasi sempre accompagnato da una ragazza, un nordafricano ed un altro giovane. I poliziotti hanno successivamente accertato che si trattava di un operaio ternano di 33 anni, la sua fidanzata, una studentessa ternana di 19 anni, un altro ternano disoccupato di 25 anni ed un egiziano di 23 anni, regolare a Terni, lavorante come commesso in un negozio di frutta e verdura. Lo scorso fine settimana gli agenti hanno notato un'attività particolarmente frenetica della 33enne che raccoglieva soldi da un gran numero di giovani. Tale comportamento ha indotto gli investigatori a ritenere che il ragazzo stesse raccogliendo denaro per andare a rifornirsi di droga. La notte, tra sabato e domenica, gli agenti l'hanno passata appostati sotto casa del giovane e quando la mattina l'hanno visto uscire verso le 9, passare a prendere la fidanzata, l'amico ed incontrarsi con l'egiziano a bordo della sua auto, hanno seguito le due vetture fino al casello di Orte e della 1, quindi si sono posizionati lungo la via del ritorno, tra Magliano Sabina, Orte e il raccordo verso Terni. Alle 18 le due auto sono state viste di ritorno al casello di Orte e non appena entrate in provincia di Terni sono state fermate. Nella prima è stato trovato un bolsone di tela vuoto che emanava un fortissimo odore di stupefacente. Nel bagagliaio della seconda, invece, tre bolsoni in tela contenenti 11 pacchi cilindrici sigillati con scotch da imballaggi contenenti 12,3 kg di marijuana. A questo punto le perquisizioni sono state estese alle abitazioni dei quattro. Qui sono stati trovati altri trietti di marijuana, 50 g di cocaina, 6 bilancini di precisione, materiale per confezionare le dosi e 4.000 euro in contanti. Il valore della droga sequestrata al netto dell'acquisto è di 13.000 euro. Rivenduta avrebbe fruttato oltre 130.000 euro. Su disposizione del pubblico ministero Elisabetta Massini, tutti e quattro sono stati arrestati e tradotti nel carcere di vocabolo sabbione.